L'esperienza del Master è stata positiva, la cosa che è stata determinante e anche la cosa più interessante di tutto quanto il percorso formativo è stata l'eterogeneità delle persone in cui ho trovato come compagni di corso. Persone fantastiche con cui ho diviso molto e che venivano da percorsi sia formativi che professionali completamente diversi. Il Master ha contribuito abbastanza alla mia attività professionale perché ho avuto modo di capire quali sono le logiche che sottendono alle strategie web, alle strategie sui social network e capire che non fermarmi all'apparenza di quello che si vede. Grazie a tutti!